Rosario, di fianco alla mia moto hai un minuto di tempo per raccontarmi chi sei e che viaggio hai fatto. Ciao a tutti, sono Rosario Sala, ho 61 anni e quest'estate, da maggio a settembre, ho fatto un viaggio lungo 31.000 km da Rovereto fino a Tokyo in Giappone. Ho attraversato dei luoghi incredibili, è stato sicuramente il più bel viaggio della mia vita. Ho attraversato dei luoghi importanti, vistemente anche famosi, tipo l'Afghanistan, molto duro, molto impegnativo, ma surreale. Ho attraversato il Pamir e poi sono andato lungo la strada delle ossa fino a Magadan e sono rientrato poi fino a Vladivost. Da lì ho preso un traghetto e sono arrivato fino in Corea del Sud e poi con un altro traghetto in Giappone. Il luogo che forse mi ha preso più di tutti è sicuramente l'Afghanistan, perché è un posto dove praticamente da 50 anni non entravano turisti. Quindi anche la gente che ti veniva intorno ovviamente non era abituata a vedere questi moto grandi, queste persone che comunque turisti per loro, che non conoscevano. Quindi ovviamente hanno creato molta attenzione, molta curiosità. Però non mi sono mai sentito in pericolo ed è stato ovviamente un viaggio fantastico. Potrete seguirmi sul mio canale Instagram RosarioSaraMotobiker oppure sul mio molto corto canale YouTube che non ho seguaci, ma cercherò di aumentarlo, insomma di mettere su qualche bel video. Adesso ultimamente sto mettendo su qualche video e ovviamente cercherò di avvicinarmi anche a quel mondo lì. Grazie a tutti.